un 2 settembre giornata in cui si può davvero esultare il mondiale ci avete creduto fino alla fine alla fine è arrivato e ha scavalcato tutte altre concorrenti beh è una bella soddisfazione per l'italia perché in un anno così difficile l'italia riesce ad organizzare un campionato del mondo e quindi quindi da commissario tecnico sono contento perché perché corriamo sulle strade di casa che mondiale sarà purtroppo ovviamente per motivi di pandemia è stato ristretto alla strada e la cronometro professionisti e donne che mondiale sarà e soprattutto ricalcherà il tracciato di extra giro possiamo dire che erano le prove generali quelle di metà luglio no sarà un percorso diverso un circuito di quasi 29 chilometri con 500 metri di dislivello a giro vuol dire che sono nove giri vuol dire più di 4.500 metri di dislivello due salite da 2 chilometri 700 metri luna e quindi sarà un campionato del mondo impegnativo come siete riusciti a sbaragliare la concorrenza quali carte avete giocato ma sai io non è che mi sono mosso in qualche maniera lì è stato un lavoro da parte del presidente della regione da parte del presidente della federazione ciclistica italiana io credo che abbia abbia avuto successo il fatto che c'è una struttura che tra l'altro accoglie anche una formula 1 da lì a qualche settimana vuol dire che ci sono già strutture già già fatte e quindi credo che questo possa essere stata la la soluzione vincente possiamo dire vittoria o sconfitta dal momento che ci sono solo due mondiali per due categorie e soprattutto juniors e under 23 sia uomini che donne purtroppo non non ci saranno le corse per riunir under 23 ed è un vero peccato perché perché per loro sarebbe stato importante questo campionato del mondo ma l'UCI ha cercato soprattutto di salvare il il mondo professionistico e l'elita e l'elita donne sai poi sono decisioni che arrivano dall'unione ciclistica internazionale e quindi e quindi non riesco a dare una risposta a questa domanda potremmo dire che sarà il primo caso nella storia in cui un under 23 ovvero battistella vestirà la maglia per due anni anche solo virtualmente visto che è passato professionista però sai diversi anni fa negli anni olimpici non si disputava il campionato del mondo per dilettanti in quel caso e quindi per dire giacomini anche lui nella 79 indossò per due anni la maglia di campione del mondo